Ti Basta è la campagna di sensibilizzazione e una raccolta firme per cambiare dal basso le politiche ambientali del Comune di Francavilla. È questo l'obiettivo dell'Associazione Culturale Buendia che ha presentato l'iniziativa nella sede di Viale Nettuno. Comitato e associazioni intendono far comprendere come alcune scelte dell'amministrazione non tengano conto dei gravi pericoli che i cambiamenti climatici rappresentano per tutti, dalla vicenda del taglio delle 220 alberature al rifacimento dei marciapiedi soprattutto nella zona nord di Francavilla. Occorre, sostiene l'Associazione, un cambio di cultura nella gestione del territorio. La raccolta firme è uno strumento per informare i cittadini perché una gran parte dei cittadini non è al corrente di quello che accade a Francavilla. Uno per il verde, quindi il taglio degli alberi del patrimonio arboreo di Francavilla. Due per tutte le leggi nazionali non rispettate, tipo l'anagrafe del verde, l'anagrafe degli alberi, che sono tutte leggi nazionali che in questa raccolta di firme noi poniamo in evidenza. Ma la raccolta di firme è per chiedere l'istituzione di una consulta per tutte le opere, non solo per il verde ma anche per le altre opere. Ed è previsto dallo statuto comunale. Occorrono almeno 500 firme dei cittadini residenti per chiedere poi a Consiglio Comunale la consulta, l'istituzione di una consulta. In che cosa ha peccato l'amministrazione comunale di Francavilla? Beh, a non confrontarsi intanto con, non dico con i cittadini, ma anche con le associazioni presenti in città, dove avevano, come dire, cognizione di quello che si poteva fare, avevano idee, suggerimenti. Un incontro c'è stato, anzi più di uno, con delle promesse di collaborare, di accogliere, di vedere o di verificare in loco. Poi invece hanno cominciato all'improvviso senza avvisarci, hanno cominciato proprio nelle zone dove c'era il patrimonio arboreo più importante. Poi invece hanno cominciato all'improvviso senza avvisarci, Poi invece hanno cominciato all'improvviso senza avvisarci,